Ti piace la pallavolo? Beh, insomma, diciamo che ci gioco e basta. Ehi, di un po', la squadra in cui giochi è molto forte. Di recente, credo sia diventata più forte. La prossima volta, potrai dire che è stato frustrante, divertente o altro, invece che considerarla una cosa normale. Sì, ci conto allora. Shouyu, lui fa sempre qualcosa di nuovo. Mi piacerebbe molto poterti affrontare in una vera partita. Una partita dove per chi perde è game over definitivo. Ci sto. Una partita senza seconde chance. Una partita senza seconde chance. Calma! Hai chiù il film! The Dumpster Battle! Ciao! 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 Grazie a tutti